Pinocchio fa vedere il pesce cane. Il giorno dopo Pinocchio andò a scuola e il fatto sta che guadagno la stima di tutti i ragazzi e anche del maestro che lo vedeva attento e studioso il solo difetto che avesse Eva è quello di frequentare molti monelli svogliati. Un bel giorno mentre andava a scuola incontrò alcuni compagni che gli dissero, sai la notizia, è arrivato un pesce cane grosso come una montagna, noi andiamo a vederlo, vieni, dunque via! E chi più corre è più bravo! gridò Pinocchio e così un branco di monelli si mise a correre per i campi e Pinocchio aveva le ali ai piedi. fine ventituresima parte grazie 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 grazie